In una sezione esplosiva del suo libro di memorie, il duca di Sussex, avrebbe raccontato il momento in cui ha incontrato Camilla per la prima volta, dicendo che non pensava che suo padre fosse felice e che l'attuale regina consorte sembrava annoiata. Secondo quanto riferito, il principe Ferri ha affermato che lui e il principe William hanno implorato il padre, il re Carlo III, di non sposare Camilla Parker Bowles per paura che sarebbe stata la loro cattiva matrigna. Poiché gli estratti del suo libro continuano a scuotere lo studio. Il libro di memorie del duca di Sussex, Spare, arriverà sugli scaffali martedì 10 gennaio, ma le copie trapelate suggeriscono che il principe stia continuando i suoi attacchi ai reali con sede nel Regno Unito. Una notizia bomba afferma che lui e suo fratello maggiore erano entrambi a conoscenza di Camilla come l'altra donna. Secondo Thesanne, che si è impossessato di una copia spagnola del libro prima della sua uscita, Ferri e William, hanno avuto incontri separati con Camilla, prima che si unisse ufficialmente alla famiglia reale. Punto. Straordinariamente, il duca avrebbe paragonato l'incontro con la fidanzata di suo padre per la prima volta a levitare il dolore, mentre si faceva un'iniezione. Scrive. Questo non è niente. Chiudi gli occhi e non lo sentirai nemmeno. Ricordando l'incontro privato, Ferri afferma che Camilla sembrava annoiata, dicendo che era pura formalità in quanto non era l'erede o un grosso ostacolo o l'unione. Presumibilmente ammette, tuttavia, che hanno avuto una breve conversazione sui cavalli. Ferri dice che si chiedeva se un giorno Camilla sarebbe stata la sua cattiva matrigna, ma ha continuato dicendo che lui e William erano disposti a perdonarla nei loro cuori se avesse potuto rendere felice il loro padre. Il principe scrive. Abbiamo visto che come noi non era, felice. Potremmo riconoscere gli sguardi assenti, i sospiri vuoti, la frustrazione sempre visibile sul suo volto. Rivela che lui e William hanno promesso al padre che avrebbero accolto Camilla in famiglia, ma gli hanno chiesto di non sposarla in cambio. Ma le raioi jin e rai jin, toti al padre jin, oi uono inaru, oi uono inaru, sen, da chish'haiima sui shoppio, ma so shoppio pingu mall. De jeringa, vazaouto, ah, Sous-titrage ST' 501